Arrivano i fondi del PNRR per digitalizzare e svecchiare la formazione. I fondi sono destinati a vari istituti del Trentino. Noi siamo stati all'ITT Buonarrotti di Trento. Vediamo. Al Trentino sono destinati quasi 16 milioni di euro. Il pacchetto più sostanzioso di fondi se lo è aggiudicato l'ITT Buonarrotti di Trento. 1700 studenti, 5 indirizzi e ora 477 mila euro da utilizzare per creare spazi fisici innovativi negli arredi e nelle attrezzature delle classi e mettere al passo i laboratori alle necessità del mondo del lavoro. Si disegna la scuola del futuro? Direi proprio di sì. Vedo che siano piccoli passi, ci saranno poi altre azioni che però segnano una direzione che ci porta oltre quello che era la frontalità che ha costituito la scuola di un tempo. Avremo tempo, 3 anni, per fare questo tipo di intervento. Già da settembre noi abbiamo previsto la costituzione di un gruppo di progettazione costituito dal team innovazione, gli animatori digitali, i referenti dei dipartimenti, dei nostri vari indirizzi. È davvero una grossa opportunità di innovazione e trasformazione della scuola e va fatta insieme. Intanto i portoni del Buonarrotti sono aperti ed è già via vai di studenti impegnati nelle lezioni di recupero. Un piccolo preassaggio di scuola. Si torna infatti in classe il 12 settembre.